Un furgone si è ribaltato, una persona è deceduta e altre tre sono rimaste ferite. Tragico incidente questa mattina intorno alle 10.15 sulla autostrada A14 in direzione Ancona, nel tratto compreso tra Castel San Pietro Terme e Imola. Pesantissime le ripercussioni sulla circolazione in una giornata che di fatto chiude il fine settimana dei rientri dalle vacanze estive. Si sono registrati fino a 10 km di coda, ralentamenti di riflesso anche sulla A13 Bologna Padova con una coda tra il bivio per la A14 e Bologna Interporto. La polizia stradale sul posto insieme al personale della direzione Terzo Tronco Bologna di Autostrade per l'Italia ha cercato di ricostruire la dinamica e ha deviato la circolazione per permettere di liberare il manto stradale. Raccomandata per chi è diretto verso Ancona l'uscita a Bologna San Lazzaro, preferire la via Emilia e rientrare poi sulla A14 al casello di Imola. Grazie a tutti.